Terminati i lavori dell'ACA, oggi Corso Vittorio per l'ultimo giorno sarà a senso unico, da domani torna il doppio senso, Marina Dolci, commercianti di Pescara possono tirare finalmente un sospiro di sollievo? Sì assolutamente, aspettavamo questa riapertura a senso doppio e ci aspettiamo il meglio. Ringraziamo l'amministrazione, ci hanno ascoltato, abbiamo fatto anche un ingresso in un consiglio comunale, sono stati molto gentili e adesso ci aspettiamo che il pubblico di Pescara, del vicinato di Spoltore, Francavilla, Montesilvano, rientri nella nostra città con più facilità. Cosa significa riavere a distanza di qualche anno forse la strada più importante della città a doppio senso? Significa tanto perché è stata proprio l'arteria di Pescara, ci unisce da nord a sud, è veramente importante, anche per Corso Vittorio, negozi storici per noi del centro, l'aspettiamo veramente con ansia. Chiedete anche un po' di clemenza ai vigili urbani? Sì, veramente sì, almeno ai primi tempi dateci tempo di riabituarci, sicuramente da parte dei cittadini ci sarà attenzione a non parcheggiare, ricordiamo, è solo una viabilità aria aperta e non si potrà parcheggiare, però saremo tutti più contenti. Il centro commerciale naturale della città è pronto dunque a rianimarsi, si va verso la bella stagione, voi auspicate ovviamente una maggiore presenza, soprattutto nelle weekend, anche di persone che vengono da fuori città. Sì, assolutamente, il sole sta tornando, i negozi saranno aperti, siamo pronti con tutte le nuove collezioni, Pescara è bella, quindi venite a passeggiare, la strada è più facile, il centro commerciale naturale aspetta tutti.